Allora, Colli al Metauro si appresta a vivere una fase importante dal punto di vista dell'economia, inizia un percorso per il piano regolatore. Sì, come sotto molti altri aspetti, ancora Colli al Metauro è suddiviso spesso nelle sue funzioni con le tre ex municipalità, quella di Sorongarina, quella di Montemaggiore e quella di Saltara. Questo anche per i piani regolatori generali. Noi abbiamo proprio situazioni diverse da una realtà all'altra, abbiamo indici diversi, previsioni diverse, perché quando c'erano i tre comuni, giustamente la propria programmazione la prevedevano fino ai propri confini. Oggi c'è il rischio reale, in alcuni casi addirittura ci sono delle aree di sviluppo adiacenti una all'altra, che magari se parte una non va bene l'altra. Oppure ci sono situazioni di viabilità che arrivano al confine di un ex comune e non proseguono nell'altro versante. Ecco, indubbiamente c'è questa grande esigenza di rifare da capo un piano regolatore generale che tenga conto anche della nuova situazione territoriale di Colli al Metauro, oltre che delle nuove esigenze che oggi ci sono rispetto a un po' di anni fa. Ecco, lei su questa tematica ha tenuto anche un incontro importante col tessuto economico e sociale del suo comune. Sì, il percorso di un piano regolatore generale è un percorso arduo, difficile e tendenzialmente lungo. Su questo io vorrei in tutti i modi coinvolgere nel miglior modo possibile tutti i territori, tutte le persone, tutti i cosiddetti addetti ai lavori. Quindi abbiamo proprio iniziato da un'assemblea che abbiamo tenuto a Montemaggiore, nel Teatro di Montemaggiore, invitando tutti i professionisti, geometri, ingegneri, architetti, geologi, tutte le associazioni di categoria, per illustrare da parte dell'amministrazione appunto le nostre intenzioni, ma per recepire soprattutto da parte loro i vari punti di vista. Su questo c'è stata un'ampia partecipazione, un ottimo dibattito. Io credo che questa sia solo una fase iniziale di percorso, perché poi dovremmo anche proseguire indubbiamente con degli incarichi esterni a dei professionisti che studino questa situazione, che studino questo programma, questo nuovo piano regolatore e questo confronto con le associazioni, con i professionisti, con le imprese del territorio, con i cittadini, dovrà comunque continuare fino a compimento. Io deduco l'obiettivo può essere quello di metà legislatura.